Terza vittoria e terzo 3-1 consecutivo per la Tonno Calipo Calabria che vince anche sul campo del Potenza Picena. I giallorossi spezzano il tabù che li vedeva sempre sconfitti in campionato contro i marchigiani e violano il palaprincipi conquistando punteggio pieno. La squadra di coach Mastrangelo mostra grinta da vendere e tanta qualità. Emerge nettamente il valore della compagine, capace di dominare i padroni di casa marchigiani in tre parziali su quattro e con un buon margine di punteggio. Coach Mastrangelo conferma la formazione titolare con Pinelli-Mikailovic, Forni-Presta, De Paola-Vedovotto e Mara-Libero. Il primo set vede lo sprint dei calabresi che partono subito bene ma che non si distanziano troppo dai marchigiani chiudendo il blocco per 22-25. Nel secondo parziale dominio giallorosso, notte fonda per Potenza Picena che cade sotto i colpi di Forni e Mijailovic per non parlare dei muri che mandano in tilt l'attacco bianco-blu chiudendo 14-25. Il terzo vede lo scatto d'orgoglio dei padroni di casa che se la giocano punto a punto riuscendo a sfilare il set ai tonnetti per 25-22. Il quarto vede gli ospiti spingere sull'acceleratore per mettere la parola fine sul match incuranti dei tentativi di rimonta degli avversari e lasciandoli a 19 punti. Da segnalare un Mijailovic stratosferico capace di mettere a terra 21 punti e trascinare i calabresi alla vittoria. Performante anche De Paola che ha messo a segno 17 punti con il record personale di 6 muri e Luca Presta che ha firmato 11 punti di cui 3 con la sua battuta flottante che ha mandato in tilt la ricezione marchigiana. Un successo importante è la conquista di 3 punti per la squadra calabrese che le consentono di rimanere da sola al secondo posto a sole tre lunghezze da sola. La prossima settimana il Palavalense arriva a Brescia.